Imparare a gestire in maniera responsabile la paghetta settimanale è il primo passo per capire il valore di un bilancio familiare equilibrato. E ai ragazzi delle scuole piemontese di ogni ordine, grado infatti, che si rivolge alla prima edizione della settimana della cittadinanza economica, organizzata dal Consorzio Patti Chiari, in collaborazione con Intesa San Paolo e l'Ufficio Scolastico Regionale. Perché quelli di cui andiamo a parlare sono temi purtroppo ancora distanti dal mondo dei giovani, però sono temi che saranno importanti nella loro vita da adulti e nel nostro paese una cultura finanziaria diffusa è un obiettivo ancora tutto da raggiungere. In un'epoca in cui i termini finanziari più tecnici rientrano nel linguaggio quotidiano e si discute al tavolino del bar di teorie macroeconomiche come della propria squadra del cuore, diventa necessario informarsi su questioni che una volta erano di stretto interesse del commercialista. Non sempre la scuola è in grado di fornire questo tipo di educazione ed ecco allora che gli istituti di credito corrono ai ripari, impegnandosi per formare risparmiatori responsabili del futuro. La settimana della cittadinanza economica non solo insegna la gestione del portafoglio quotidiano, ma vuole anche insegnare i rudimenti di business plan e gestione di impresa e avvicinare i ragazzi ai temi della previdenza complementare. In questo modo Intesa San Paolo vuole impegnarsi a ricostruire un consenso diffuso nei confronti degli istituti di credito dopo la diffidenza generale sollevata dagli ultimi mesi di crisi internazionale. L'importo massimo di un prestito è aumentato da 30 a 75 mila euro, la durata da 72 a 120 mesi e sono anche state migliorate le coperture assicurative in caso di problemi di salute o di perdita del lavoro. I nostri prestiti hanno anche le cosiddette opzioni di flessibilità, il salta rata e il modifica rata che dà la possibilità al debitore di posticipare il pagamento di una o più rate o anche di modificarne l'importo nel corso dell'ammortamento del mutuo stesso.